Grazie! Come state, Caorle? Bene, bene, vi voglio così carichi perché la serata sarà lunga e tante emozioni, tanta musica, siamo per regalarvi. Allora, la prossima artista che sta per salire sul palco, quando l'ho vista la prima volta, ho detto io voglio metterle le mani nei capelli. E capirete per quale motivo. Poi quando l'ho sentita cantare, mi è venuta la pelle d'oca. E capirete anche questo tra pochissimo. Lei è ancora poco conosciuta in Italia, ma è una bomba in Inghilterra. Sta scalando le classifiche inglesi e tra pochissimo vi canterà una canzone che non vi uscirà dalla testa. Ladies and gentlemen, say it! Buonasera! Ci siamo! Ciao! 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 Sì 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 Grazie mille, grazie Ehi, 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 vieni qui Scusa, devo fare Prima ti abbraccio E poi posso? Lo faccio per tutti voi Ragazzi è una roba stupè Non è una parrucca Senti, posso farti un paio di domande proprio sul video? Perché mi incuriosisce tantissimo Allora è un video che ho registrato a Ibiza Ci abbiamo messo circa tre giorni perché La tecnica è stata difficilissima All'inizio pensavo ma sì, mi faccio tre giorni di vacanza Invece no 18 ore di girato anche perché Time lapse e hyperlapse È questa tecnica appunto nuova Soprattutto su un video musicale E quindi sì, impegnativissimo ma molto molto divertente Lo proveremo a fare anche noi con Instagram E con i video, vediamo se ci riesce Della stessa maniera Grazie, grazie ancora Senit Avanti, lei è avanti Avantissima